Buonasera, benvenuti e benvenute a una nuova edizione del Tg6. E' iniziata la rimozione dei rifiuti tossici che ostruiscono Via Anelli a Bolognano. Le analisi sul terreno hanno dato un esito preoccupante e ora si attendono dei fondi ministeriali per poter continuare la bonifica. Arsenico, cadmio, cobalto, piombo, rame, zinco, pirite. Questi rifiuti industriali trovati tra il cumulo che da dieci anni intasa Via Anelli a Bolognano, appena fuori dal sito di interesse nazionale delle discariche tra piano d'orta e bussi sul Tirino. Siccome seppur per pochi metri Via Anelli non rientra nel SIN, la rimozione non sarà pagata da Edison, giudicata in Cassazione responsabile del disastro ambientale. La regione ha stanziato 100.000 euro con cui sono state rimosse 155 delle 285 tonnellate di rifiuti tossici. E ora si cercano fondi ministeriali per continuare la rimozione. I valori sono talmente alti da raggiungere criticità sia per quello che riguarda la tossicità dei materiali, l'ecotossicità e anche il rischio cancerogeno. Quindi adesso dobbiamo intanto finire a togliere quel cumulo, mettere in sicurezza eventualmente la strada e poi spingerci col ministero a cui sono stati già trasmessi i dati raccolti per avere i finanziamenti necessari all'estensione del sito SIN a tutta l'area che abbiamo visto essere interessata dai rifiuti contaminati. Intanto la preoccupazione è che le sostanze lissepolte possano spostarsi nel sottosuolo, contaminando anche altre zone. Quel cumulo di rifiuti fu abbandonato lì probabilmente tra il 2012 e il 2014 e da allora la strada è interrotta. All'epoca gli accertamenti delle forze dell'ordine non furono in grado di determinare gli autori dell'illecito. Il sindaco di Bolognano però non si arrende e promette di attivare ogni azione utile a individuare i responsabili. Sarà sicuramente adesso scatteranno dell'indagine da parte della provincia provinciale per capire se la parte sottostante a quei cumuli che stavano sopra quella strada pubblica sono tantomeno riconducibili alle stesse scorie inquinate che stanno all'interno del sito già oggetto di bonifica. Quindi si sta allargando a macchia d'olio la problematica dell'inquinamento sul sito ex Montecatino di Piano d'Orta. Andiamo ad interessare altri pezzi di territorio e nello stesso momento tenete presente che incomincio a preoccuparmi e che incomincia a diventare anche un problema sociale per i residenti che sono anni e anni e anni che oltre a vedersi depreciate le loro proprietà residenziali e quant'altro si vedono sottoposte anche ad un'azione sanitaria. E ora il bollettino Covid. Sono 585 quest'oggi i nuovi casi di positività registrati in Abruzzo riguardano persone d'età compresa tra 7 mesi e 93 anni. Dei positivi odierni 545 sono stati identificati attraverso il test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra un nuovo caso. Si tratta di un 89enne della provincia di Pescara. Il bilancio delle vittime dall'inizio della pandemia in Abruzzo sale a 3.248. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche i 788 guariti delle ultime ore. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 56.668, 231 in meno rispetto a ieri. Nel totale sono ricompresi anche 4.414 casi riguardanti i pazienti di cui non si hanno notizie e sui quali sono attualmente in corso verifiche. La regione con Arap promuove i suoi prodotti e le sue eccellenze nel mercato saudita. Per quattro giorni 29 operatori arabi saranno in Abruzzo per stabilire dei contatti con le aziende del territorio. Paolo Lorenzetti L'Abruzzo raccoglie i primi risultati concreti dell'iniziativa di internazionalizzazione dell'agri-food sostenibile di qualità portato avanti da mesi dalla regione per mano dell'Arap. Per quattro giorni una delegazione di 29 importanti buyers manager del ricco mercato arabo operanti nel settore degli hypermarket, dei grandi alberghi, degli autogrill, delle catene di ristoranti e dell'intrattenimento sono in visita nelle quattro province abruzzesi in una missione che fa parte di un progetto partito nei mesi scorsi ed entrato nel vivo grazie alle spedizioni della regione Abruzzo all'Expo di Dubai e a Bruxelles. L'attività di oggi, quindi la visita della delegazione, una delegazione nutrita e soprattutto autorevole perché il governo saudita insieme ai suoi rappresentanti della grande e piccola distribuzione e i rappresentanti soprattutto degli operatori economici, quindi ci sono oggi rappresentanti degli hotel, delle catene di hotel e soprattutto anche addirittura dei cuochi, quindi dei cuochi sauditi e quindi tutti gli operatori economici che girano, ruotano attorno dell'agri-food penso sia oggi una giornata importantissima. È una giornata che noi valutiamo nel solco delle attività già iniziate in occasione dell'Expo Universale dove l'azienda regionale delle attività produttive è stata delegata dal Consiglio e dall'Aggiunta della regione Abruzzo per rappresentare la regione all'interno dell'Expo Universale 2020. Un effetto collaterale positivo delle missioni fatte nelle settimane scorse, quindi una missione assolutamente importante perché è fatta di player importanti che rappresentano la grande distribuzione, che rappresentano le grandi catene hoteliere, quindi c'è molto spazio e sono anche già rimasti sorpresi dalla qualità dei nostri prodotti che soltanto a pranzo abbiamo minimamente testato. Quindi da un punto di vista operativo credo che questa missione di quattro giorni in tutto l'Abruzzo, perché saremo all'Aquila, saremo a Teramo, saremo a Chieti e oggi siamo qui a Pescara, porterà dei frutti importantissimi. Oggi noi rappresentiamo le migliori case d'Italia. In cominciamo abbiamo più di 45 prodotti italiani al mio mercato che io li importo direttamente dall'Italia. Noi siamo venuti in Abruzzo per vedere se c'è un'altra opportunità di aprire differenti settori nell'alimentare e speriamo che in questi quattro giorni faremo un grande business e un grande attività. Al via da oggi un tour esperenziale dell'Abruzzo con 20 buyers, dei compratori provenienti da Stati Uniti, Canada e Polonia. Evento presentato questa mattina a Pescara al porto turistico. Al via da oggi un tour esperenziale dell'Abruzzo per tre giorni fino all'11 maggio. 20 buyer provenienti da Stati Uniti d'America, Canada e Polonia incontreranno 81 aziende abruzzesi, programmati 371 incontri ed un tour riservato al mondo delle birre artigianali prodotto particolarmente ricercato dai consumatori dei tre paesi coinvolti. Sono questi alcuni dei numeri dell'evento denominato Discovering Abruzzo organizzato da Asso Camera Estero, Associazione delle Camere di Commercio Italiane all'Estero in collaborazione con la Camera di Commercio Chieti Pescara, la Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia, il Dipartimento Agricoltura, con il coordinamento di agenzia di sviluppo. L'evento fa parte del progetto True Italian Test, finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per valorizzare e salvaguardare il prodotto agroalimentare autentico italiano. È un progetto di grande collaborazione che ormai abbiamo instaurato insieme alla Camera di Commercio Chieti Pescara, alla Camera di Commercio Gran Sasso, un lavoro sinergico che stiamo facendo per rappresentare l'Abruzzo nel mondo e portare il mondo in Abruzzo. Questo è il motivo vero per cui noi stiamo lavorando, è il progetto su cui stiamo costruendo le basi per far sì che l'internazionalizzazione sia un'opportunità vera per le nostre aziende che sono fantastiche, con prodotti fantastici. Iniziative come queste permettono agli operatori esteri di entrare direttamente in contatto con il territorio, quindi di conoscere non solo il prodotto ma anche il territorio da cui questo prodotto ha origine e poterne quindi capire le qualità, i processi di produzione e i valori che ci sono dietro. E solo tramite una conoscenza diretta poi un operatore può all'estero promuovere al meglio questo prodotto. Noi insieme all'assessorato dell'agricoltura della regione, la Camera di Commercio del Gran Sasso, stiamo gestendo questa operazione di promozione del nostro territorio verso paesi sicuramente molto interessati al nostro territorio. è un'occasione da fare con intelligenza perché noi dobbiamo mettere al vivo le eccellenze nostre che sono tante, stiamo facendo progresse anche a livello di recettività turistica e a livello ambientale con i nostri parchi, le nostre riserve naturali, la via verde dei Trabocchi e è il momento che lo facciamo vedere al mondo e speriamo che sicuramente avremo dei risultati. Presentato questa mattina dalla provincia di Teramo, l'intervento che verrà realizzato fra i territori dei due comuni montani, finanziato con i fondi complementari del PNRR dalla cabina di regia. Il progetto che prevede interventi che mirano a favorire la destagionalizzazione dell'offerta turistica del comparto montano Teramano è stato condiviso con i comuni di Pietracamela e Fano Adriano e realizza proposte avanzate dalle comunità locali. La situazione attuale della montagna è quello che tutti possono vedere, un totale stato di abbandono su Prato Selva e un periodo di stallo negativo che porta a far sì che il pradititivo a oggi rimanga chiuso. Quindi è quello l'auspicio che veramente le due stazioni tornino agli antichi splendori. Per quanto riguarda invece la progettazione di oggi delle montagne illuminate, abbiamo presentato noi la riqualificazione di una falesia con un ponte tibetano e un volo dell'angelo e credo che anche l'altra amministrazione, ma anche lì lavoreremo insieme per far sì che questi fondi vengano spesi nel miglior modo nei nostri territori. Sono 2.400.000 euro che la provincia ha tirato con i fondi del PNRR grazie alla regione Abruzzo per il nostro comprensore della montagna, un progetto di destagionalizzazione turistica. Visto che le temperature aumentano e abbiamo sempre meno opportunità di sciare, si pensa ad un progetto di Skyline che unisca i territori di Fana Adriano e di Pietracamela. Oltre a fare un progetto di arrampicata su una parete rocciosa che è già edibita, sono progetti importanti per avere un turismo 360 giorni l'anno. Questo era l'obiettivo che ci siamo prefissati, oltre in parallelo di sistemare 30 anni di storia per quanto riguarda gli impianti e speriamo di trovare la quadra. Sono soldi nuovi per interventi nuovi con progetti diversi da quello che sono lo sciare nei giorni e nei periodi invernali. Pensare che un paese di 250 abitanti possa lavorare da solo è oggi o come oggi una cosa assurda. Quindi dobbiamo lavorare con tutti i territori viciniori, con la provincia, con la regione e siccome il territorio è un territorio interessante da un punto di vista naturalistico, da un punto di vista se vogliamo soltanto esclusivamente turistico, vale la pena fare un progetto condiviso. Andiamo avanti dedicata alla solidarietà e all'accoglienza. La mostra a Palazzo della provincia di Chieti che conclude un progetto con le scuole sul tema dell'accoglienza. Selenia Secondi. La solidarietà come esperienza d'accoglienza è il filo conduttore della mostra Il Rinascimento dei Bambini, approdata in regione grazie al CSV Abruzzo, il centro di servizio per il volontariato. Visitabile fino al 10 maggio nell'androne del Palazzo della provincia a Chieti, la mostra racconta la storia secolare e ancora attiva dell'accoglienza da parte dell'Ospedale degli Innocenti di Firenze che fin dal 400 ha accolto 500.000 bambini. Oggi l'Istituto degli Innocenti ospita un ufficio di ricerca dell'Unicef, case famiglie e servizi educativi e gestisce il Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per l'Infanzia. Questo progetto è la ripartenza sostanzialmente di un progetto con le scuole e riguarda l'esperienza del volontariato tra i giovani. Quindi sono associazioni, scuole e ragazzi che lavorano assieme affinché possano fare esperienza del mondo del volontariato e quindi avere la possibilità di conoscere questo mondo della gratuità. Una mostra articolata in tre sezioni composte da 34 pannelli. La prima racconta la genesi dell'Istituto, la seconda si concentra sulla vita dell'ospedale, la terza, attraverso le pregiate opere d'arte commissionate da istituzioni e donate dai tanti benefattori nel corso dei secoli all'Istituto, approfondisce lo stretto legame tra bellezza e carità. Chieti ha una lunga tradizione nell'accoglienza dei minori. Addirittura la nostra prima esperienza risale con i cappuccini da prima dell'Unità d'Italia e si contano circa sette realtà che si sono adoperate perché questo tipo di esperienza trovasse anche risposte all'interno della nostra città. Quindi ci sembra molto importante che da Firenze siamo riusciti a portare questa mostra qui a Chieti. Speriamo che questa mostra serve a far riflettere, a far riflettere non solo su quella che è stata la storia che in qualche modo abbiamo vissuto, ma ci faccio riflettere sulla storia che viviamo oggi e che dovremo vivere domani. La solidarietà non va mai in pensione. E questa mattina a Teramo, presso la sala ipogea di Piazza Garibaldi, si è aperta l'esposizione I Colori del Tifo, organizzata dal locale Comitato Unicef e dal club Bianco-Rosso in collaborazione con la scuola primaria Lucidi. Le classi, le classi terze, quarte e quinte, hanno messo su carta la loro idea di tifo e premiato il miglior calciatore del Teramo della stagione appena conclusa, ovvero il capitano Andrea Arrigoni. Il servizio è di Ania Cantagalli. Giuseppe Bracalenti, a vedere questi disegni c'è una bella speranza per il futuro della tifoseria terramana. Assolutamente, per noi era questo l'obiettivo e questo rimarrà sempre l'obiettivo, coinvolgere i più piccoli nei messaggi di passione per la squadra della propria città, di tifo sano, corretto e di tutte quelle manifestazioni che appunto portano a sdoganare un attimino il tifo uguale violenza. Non è così, il tifo è anche in grado di offrire messaggi positivi. Quindi questi bambini con il loro animo nobile sono riusciti a farlo. Per noi il tifo e il sociale devono andare per forza di pari passo, come un'associazione come la nostra, come il club che ha 50 anni di vita, quindi una delle più longeve della provincia. Quindi è un dovere, è un dovere farlo, cerchiamo di farlo nel migliore dei modi, con queste iniziative e anche grazie alla collaborazione dell'Unicef che è un'organizzazione mondiale. Un'iniziativa che avvicina i più piccoli anche al mondo del calcio in maniera sana. Assolutamente, vuole essere un modo per avvicinare appunto i bambini allo sport e al calcio, in particolare in questo momento, dove attraverso i disegni è stato pure un modo di rappresentare quelle che sono le loro sensazioni, come intendono il calcio, come lo immaginano. E quindi qui oggi proprio a rappresentare la bontà, non solo di quello che si è fatto in termini di opere da parte dei bambini, ma anche per i messaggi che passano dai singoli disegni. Una sinergia che è partita con il club Biancorosso un po' di tempo fa e devo dire si consolida nel tempo e questo ci fa piacere perché significa che condividiamo assolutamente quelle che sono delle linee guida e poi nel premiare quello che è il calciatore dell'anno, Biancorosso, quindi il capitano Arrigoni. Ed è un bel momento perché, dico sempre, questi sono momenti in cui i bambini possono focalizzare e tenere un ricordo nel tempo, il loro disegno, il capitano della loro squadra, il momento di premiazione che possa essere insieme a tutti i diritti, perché qui oltre ai disegni sono esposti anche i diritti dell'Unice, fu un momento per ricordare che veramente dobbiamo rispettare i diritti di tutti i bambini ma nello stesso tempo far sì che ogni singolo bambino possa conoscerli e viverli al meglio, nel rispetto ovviamente di tutte le persone. La salute dello sportivo fra tutela e innovazione, questo è il tema del convegno che si è tenuto all'Aurum di Pescara con specialisti e atleti. Ormai sono diversi anni che cerchiamo di andare in questa direzione e insieme al dottor De Feo stiamo cercando di coniugare medicina e psicologia dello sport per riuscire a promuovere la salute e il benessere dello sportivo prendendo in considerazione i vari aspetti che rientrano nella condizione generale in cui versa l'atleta di qualsiasi livello, quindi a partire dall'atleta amatoriale fino ad arrivare al campione e quindi chi lo fa per professionismo. Parliamo di un'età che si sta sempre più allargando probabilmente oggi? Sì, il nostro scopo in effetti è proprio quello di avere la possibilità di allargare la base, di curare i settori giovanili e di far sì che vengano fuori quei talenti che se eventualmente ci sono, nella maniera più adeguata possibile, quindi nel rispetto totale del carico di lavoro che l'atleta può sopportare. Dottor De Feo, com'è cambiata oggi la pratica sportiva? Allora, la pratica sportiva oggi è cambiata tantissimo, infatti oggi come abbiamo visto nell'intervento del presidente Sospiri che raccontava che lui è andato a New York e a New York non esistono più negozi che vendono vestiti normali, vendono tutti roba di sport. Cioè lo sport ormai si buttano tutti nello sport, fanno tutti sport ed è giusto che facciano tutti sport, però la cosa importante è fare sport in sicurezza, come? Facendo le visite medico-sportive, quindi con la collaborazione nostra, ecco, dei medici dello sport che facendo la visita medico-sportiva diamo la possibilità alle persone di fare attività sportiva in sicurezza. infatti c'è un progetto adesso nazionale che parla appunto di palestre sicure e palestre della salute dove il medico dello sport fa delle vere prescrizioni, quindi il medico dello sport fa la prescrizione e la persona va in palestra a fare terapia, cioè l'esercizio fisico visto anche come terapia medica. E questo servizio ci introduce allo sport, parliamo di calcio di Serie C, finisce 3-3 la gara di andata del primo turno della fase nazionale dei play-off tra Pescara e Feral Pisa-Lobby. Ancazzurri avanti 1-0, poi sotto per 3-1, ma comunque hanno avuto la forza di uscire con un pari dall'Adriatico-Cornacchia, un risultato che però costringerà l'undici di Zaura a vincere in Lombardia giovedì sera alle ore 20.30. Finisce in parità per 3-3 il primo round fra Pescara e Feralpi in una gara dalle mille emozioni con i biancazzurri capaci dell'ennesima rimonta, ma costretti ora a vincere a Salò per arrivare al secondo turno nazionale della pool promozione. Resta la macchia di 7 gol subiti in tre gare casalinghe, dove il Delfino non è mai riuscito però a vincere. Zauri rispetto al match con il Gubbio manda in campo dall'inizio Lianes, Zita, Memushai, Ferrari e Rauti. I Lombardi di Vecchi giocano con il 4-3-1-2 in campo, l'ex Pescarese Bacchetti, buona presenza di tifosi all'Adriatico dove dirige Carella di Bari di fronte a 4.000 spettatori. Partenza aggressiva del Delfino che al sesto, al primo a fondo passa, Ferrari conquista con caparibietà un angolo, con Pontisso che dà la bandierina a pennella, centro area per Memushai, che di testa salta quasi indisturbato mettendo il pallone alle spalle. Del portiere De Lucia per l'1-0 abruzzese che fa esplodere l'Adriatico Giovanni Cornacchia. Buono l'approccio dei ragazzi di Zauri che corrono un brivido al 14esimo con il tiro di Spagnoli che fa terminare il pallone di poco sopra la traversa della porta difesa. Da Sorrentino che però al 21esimo non può nulla con il colpo di testa di Spagnoli che su punizione di Di Molfetta fa 1-1. Nuova parità fra Pescara e Feralpi con gli ospiti che si caricano e che si rendono pericolosi al 28esimo con il cross di Bergonzi e il colpo di testa di Spagnoli che manca di poco il bersaglio grosso. Ci provano i padroni di casa in un match equilibrato e che vede le due squadre attente a non scoprirsi. Alla 39esimo Pontisso prende la mira dei 20 metri non inquadrando però lo specchio della porta ospite. Poi più nulla fino al 45esimo quando arriva il doppio fischio di Carella che manda i giocatori di Pescara e Feralpi negli spogliatoi. In avvio di ripressa al secondo Pontisso in area mira l'angolino trovando la respinta ospite. Al terzo Pompettico mette fallo sulla tre quarti e prende un giallo pesante che lo costringerà a saltare la gara di ritorno. Le brutte notizie non sono però finite perché dopo due minuti di Molfetta si inventa una grande giocata segnando il gol del vantaggio. Feralpi che dopo essere andata sotto ora conduce per 2-1 con il match che si fa maledettamente in salita per il Pescara che paga la costanza di tanti gol subiti. I tifosi biancazzurri non demordono incoraggiando i propri beniamini. Al decimo Pompetti prende la mira dalla distanza sfiorando i pali della porta lombarda ma i biancazzurri si dimostrano di burro in difesa e al quarto d'ora su angolo di di Molfetta e legati a insaccare di testa alle spalle di Sorrentino. Si fa dura, durissima per il Pescara che però ha la forza di segnare al diciannovesimo con il caparbio ne ho entrato Cernigoi la rete del 2-3 che tiene in vita il Delfino. Le due squadre si allungano e al ventitresimo Guerra segna il gol del 2-4 ma in fuorigioco con Carella che giustamente annulla. Ma le emozioni non finiscono più all'Adriatico Giovanni Cornacchia visto che Rauti al ventinovesimo su Astist di Cernigoi a due passi da De Lucia non sbaglia e fa 3-3 andando ad esultare sotto la Nord. Il gran cuore della squadra permette al Pescara di trovare così un pareggio insperato ma sicuramente meritato. Dopo Pompetti arriva il giallo anche per l'altro diffidato De Risio che come l'ex interista sarà costretto a saltare la gara di ritorno. Si arriva così agli ultimi minuti di gara con Siligardi che al 44esimo chiama Sorrentino al salvataggio in angolo prima del convulso finale in cui le Pescara prova il miracolo che ora occorrerà giovedì 12 maggio alle 20.30 all'Utturina di Salò dove Sorrentino e i compagni saranno chiamati a vincere per non salutare anticipatamente i play-off e chiudere così la stagione. E in casa Teramo si lavora per definire il prossimo futuro societario. Restano in attesa staff e giocatori tra cui lo stesso capitano Arrigoni che ha parlato del campionato appena concluso rinnovando anche la volontà di restare in bianco-rosso nonostante il contratto in scadenza. Ascoltiamolo. Andrea Arrigoni non potevi che essere tu il miglior bianco-rosso di questa stagione. Non lo so mi fa piacere sicuramente però è anche merito di tutta la squadra perché quando viene valorizzato un singolo è sicuramente merito di tutta la squadra quindi è un premio che fa piacere ma che condivido con tutti gli altri ragazzi. Questa annata a Teramo appena conclusa dove la posizioneresti nelle tue annate e nella tua carriera a livello anche di prestazioni e di gol? Ma è sicuramente una stagione importante sono riuscito anche a fare come hai detto tu qualche gol in più rispetto al solito e quindi sono soddisfatto è stata una stagione anche difficile per tante cose e quindi esserne uscito bene è sicuramente un valore aggiunto. Stai seguendo i play-off sempre con un po' di rammarico? Sì, quando vedo le partite così come ho detto nell'ultima conferenza sono un po' rosichi perché sono partite come vediamo sono proprio belle da giocare sono vive, sono emozionanti quindi sono partite che uno spera sempre di poter giocare. Pescara che riesce sempre a recuperare però adesso a Salò servirà una vittoria non so se hai seguito la partita. Sì, è riuscita a raddrizzarla perché era sotto 3 a 1 quindi si è data una bella spinta per il ritorno perché averla pareggiata li tiene comunque aperta la partita dovrà andare a vincere a Salò ma il Pescara penso che sicuramente la capacità di vincere a Salò ce l'ha. Ti posso non chiedere se Andrea Rigoni ha già ricevuto qualche proposta, offerta, sondaggio da parte di qualche squadra perché sei a scadenza di contratto con il Teramo? Guarda, io personalmente non so niente non so se il mio procuratore ha ricevuto qualcosa ma non lo so penso che sia ancora presto per parlare di queste cose però sono in attesa di capire un po' sia il futuro qua a Teramo sia nel caso di guardarmi intorno come è logico che sia. Nel caso seguiresti Federico Guidi se non dovesse anche lui restare a Teramo? Ma non lo so sicuramente col mister mi sono trovato bene poi dopo il seguirlo meno ripenerà tante cose sia da lui innanzitutto e quindi vabbè vedremo un po' cosa ci riserverà al futuro. Il tuo primo pensiero comunque è provare a restare qui? Ma sicuramente a me farebbe piacere perché portare avanti un lavoro in un certo modo io ne sarei molto contento quindi è certo che ci spero però in questo momento non aspetto notizie come voi come tutti e vediamo. E ora la pallavolo al Badriatica sarà il quartier generale delle finali nazionali under 19 del volley maschile che si svolgeranno dal 24 al 29 maggio prossimi. L'evento organizzato dalla FIPA Vabruzzo di concerto con Abruzzo Sporting Tour è stato presentato in conferenza stampa al comune per l'appunto di Alba Adriatica. Sei giorni di gare 28 squadre 78 partite e oltre 250 atleti sono alcuni dei numeri delle finali nazionali under 19 di pallavolo maschile che si svolgeranno dal 24 al 29 maggio prossimi. Il quartier generale sarà a Alba Adriatica dove si disputerà la finale per l'assegnazione dello scudetto di categoria ma l'evento che torna a distanza di tre anni toccherà anche altre realtà territoriali del comprensorio Tortoreto Martinsicuro Colonnella e Mosciano L'evento organizzato dalla FIPA Vabruzzo di concerto con Abruzzo Sporting Tour è stato presentato in conferenza stampa al comune di Alba Adriatica presenti sindaci e amministratori delle località interessate nei giorni delle finali è attesa anche la presenza di Julio Velasco direttore tecnico dei settori giovanili della federazione nell'organizzazione sono state coinvolte anche le società di pallavolo di Alba Adriatica Tortoreto e Mosciano a giorni sarà definito anche il programma definitivo delle partite con il novero delle squadre qualificate e i sorteggi per la composizione dei vari gironi innanzitutto riaprire gli spazi di socialità quindi il primo spazio di socialità sono i palazzetti dello sport che quest'anno hanno vissuto anzi questi due anni hanno vissuto le restrizioni per via appunto delle normative significa rivedere finalmente una città vivere rivedere degli atleti squadre ospitare e quindi significa sicuramente una visione di una città viva perché in questi due anni vivere la città con le varie restrizioni non è stato facile per nessuno quindi riappropriarsi degli spazi di socialità è una cosa bellissima l'emittente tv6 informa che intende diffondere messaggi politici a pagamento per le elezioni amministrative 2022 fissate per il 12 e 13 giugno e il referendum fissati per il solo 12 giugno a tal fine informa che nella sede di Silvi in via nazionale adriatica nord 26 al numero telefonico 085 930020 è depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse concernente la trasmissione dei messaggi il numero massimo dei contenitori predisposti la collocazione nel palinzesto gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto e termina qui questa edizione del TG6 i servizi che avete visto sono a disposizione sul nostro canale youtube e sul sito tv6.it grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata grazie per averci seguito